buona giornata amici da massimo foghetti oggi è venerdì 10 giugno 2022 sono le 7 del mattino puntuali per la rassegna stampa del giorno leggiamo il resto del carlino il corriere adriatico sulle pagine locali però come sempre iniziamo sfogliando il libro dei santi e vediamo un santo poco conosciuto almeno nella nostra provincia nella nostra regione si tratta della beata diana degli andalò andalò era il soprannome della famiglia bolognese dei lovello diana era la sorella di loderingo che con catalano dei malvolti e il beato bartolomeo delle braganze fu uno dei fondatori dei frati gaudenti un ordine approvato da papa clemente iv nel 1260 diana diventò badessa del convento di sant'agnese a bologna e fu stimata per la vita santa che condusse tanto che venne beatificata da papa leone tredicesimo l'otto agosto del 1888 quindi beata diana degli andalò si festeggia oggi quindi auguri a tutte le donne che si chiamano diana un nome piuttosto ancora oggi diffuso e vediamo le previsioni del tempo il tempo rimane un po perturbato su tutte le marche vediamo la grafica piogge residue oggi fino per tutta la mattinata sia sulle coste che sull'entroterra a seguire sarà un tempo asciutto ma con un cielo ancora nuvoloso ancora il cielo deve rimettersi dalla perturbazione che è passata sul nostro territorio le temperature uscilleranno dai 17 ai 25 gradi i venti sulle coste spireranno da una direzione di nord nord ovest e sull'interno invece da una direzione di nord nord est è un lettore di un è un lettore dei giornali un nostro spettatore telespettatore ci ha chiesto di iniziare la nostra segna stampa con le prime pagine dei giornali e noi l'accontentiamo subito cominciamo allora dal corriere adriatico eccola la pagina che viene evidenziata la prima pagina del giornale della nostra regione vediamo l'apertura bonus bonus bimbi per 95 famiglie è quello che ha predisposto l'amministrazione comunale di pesero per accontentare almeno una parte dei bambini che sono stati esclusi dal servizio asilo estivo un servizio importante per le coppie che lavorano e poi la fotonotizia centrale pesce come oro e il prezzo si impenna dato lo sciopero della marineria i prezzi sui banconi delle pescorie vanno alle stelle e poi a centro pagina tre notizie di cronaca video su tiktok contro la rivale finisce nei guai e poi il siulpe il sindacato di polizia di pesero fa la sua convention e conferma il suo segretario l'anzi baby gang siamo oltre i limiti ha dichiarato e poi vedremo questo articolo colli al metauro da fuoco all'auto dell'ex condannato anche per molestie e poi su questo articolo di spalla vediamo ancora l'agonia di mario che ha chiesto di morire ma ci vogliono 5.000 euro che lo stato non fornisce e ancora un episodio di cronaca raid nei ladri nei garage rubata anche una poche una macchina di lusso a pesero invece per quanto riguarda il resto del carlino vediamo che proprio quest'ultima notizia viene evidenziata come apertura i banditi scappano con la porsche ladri colpiscono in 11 garage della città 11 garage pensate sparite anche tre biciclette tra cui una da 5.000 euro e poi il no della regione per quanto riguarda il patrocinio del gay pride march che si svolge appunto a pesero vedremo il perché ancora cronaca a zigzag in a 14 completamente ubriaco inseguito e preso statale il tutor fa strage un milione di euro in sanzioni attenzione decoro urbano fumata bianca vietato l'asporto italiano e tecnico fa parte del nuovo regolamento che l'amministrazione comunale di pesero ha approvato per quanto riguarda il centro storico e poi ancora una notizia di cronaca minacce e insulti alla rivale su tiktok condannata per quanto riguarda lo sport abbiamo che la vl conferma l'impegno per i berretta mentre per la vis lazzari ha detto basta ora voglio allenare ha dichiarato e allora apriamo il resto del carlino vediamo subito la pagina di fano che si apre con la notizia del caro gasolio marineria in rivolta aiutatici il grido di dolore che sale dai pescatori che per la terza settimana consecutiva sono in sciopero poi vediamo che alcune marinerie hanno deciso di andare in mare però ovviamente c'è chi non gliela fa più a restare in terra qualcosa deve portare nei mercati per sopravvivere il problema a proda in giunta a fano seri l'accesso alle risorse pubbliche è possibile solo se si rientra dentro certi parametri esistono delle regole burocratiche che purtroppo regolano il settore e vediamo che ieri seri è intervenuto ha discusso del problema all'interno della sua giunta e si è rivolto al sottosegretario al lavoro Rossella Accoto affinché stimoli il governo a prendere provvedimenti il comune non è che può fare molto in questo caso comunque vedremo se poi in futuro prenderà anche decisioni per contemperare i disagi dei pescatori magari agendo sulle bollette critiche da parte dell'opposizione alla costituzione dell'ufficio energia nel comune di fano intervengono il movimento 5 stelle fratelli d'italia qui abbiamo la fotografia del capogruppo ammazzanti e mentre per quanto riguarda fratelli d'italia interviene lucia tarsi l'ufficio energia scatena polemiche efficientamento non c'è un vero e proprio piano hanno dichiarato appunto gli oppositori e poi parliamo di una iniziativa assunta dalla confraternita del suffragio di Fano una confraternita particolarmente attiva non solo sul piano religioso ma anche sul piano culturale ogni anno infatti organizza una serie di incontri che animano l'estate fanese questa volta gli incontri sono dedicati all'enogastronomia al cibo e alla salute sono 11 appuntamenti che sono così sparsi un po' per tutti i mesi estivi fino a settembre quindi giugno luglio e settembre e si parlerà di cibo e salute patrimonio universale sono i giovedì della confraternita verranno saranno presenti a questi appuntamenti personaggi molto molto noti nel mondo dell'enogastronomia ci sarà per esempio il noto ristoratore san costanzese rolando ramoscelli ci sarà il professore corrado piccinetti direttore del laboratorio di biologia marina di Fano ci sarà fiorenzo giammattei noto cultore dell'enogastronomia all'interno della della sua associazione per quanto riguarda il gusto e la preservazione dei cibi tradizionali e poi e renzo ceccacci che è presidente di olea e quindi cultore del buon olio e ancora pia miccoli e silvia barbetti che stanno valorizzando la produzione agricola di metauriglia e ancora samuele gabellini che è un micologo e lo chef pinetto pompili che discuteranno di funghi commestibili anche il prelato anche il vescovo giovanni tonucci interverrà in uno di questi incontri e parlerà di un argomento particolare ovvero del cibo dei alimenti all'interno della bibbia che valore hanno che funzione hanno e come vengono considerati oggi appunto dagli ebrei insomma una lunga storia che si addentra lungo il corso degli anni fino appunto all'inizio dello stato di israele e oltre housing sociale alla gimarra consegnati ieri 30 appartamenti sono i primi 30 dei 66 in programma e sono quattro palazzine appunto che hanno dei locali veramente belli funzionali ampli e quanto basta per una famiglia e dotati anche di buone tecnologie come il riscaldamento sotto il pavimento e il tele riscaldamento che oltre a fornire un ambiente confortevole rifarli spalmiare anche sulle bollette quindi non è un dato trascurabile sono stati consegnati ieri dall'amministrazione comunale ma anche dal fondo cives che ha effettuato questo investimento e pensate che nelle marche il fondo cives ha realizzato ben 330 appartamenti e non sono pochi insomma sono delle degli investimenti considerevoli perché si rivolgono a quella fascia di cittadini che ha un reddito superiore per ricevere una casa popolare e quindi non lo può avere ma è inferiore per accedere i prezzi di mercato e quindi quella fascia grigia che rimane sempre così in stallo senza avere la possibilità di avere una casa invece questa volta gliela si dà. Ora un'altra iniziativa che è stata presentata ieri si tratta della festa dei popoli festa dei popoli che si svolge in due giornate a Fano sabato prossimo e domenica sabato ci sarà la presentazione di un libro scritto da Fatima Farina che è docente di sociologia e dei processi economici e del lavoro che ha scritto un libro sulla guerra che le donne hanno intentato contro la pandemia questa volta una guerra contro il virus che è ancora in atto anche se il virus in questo momento si sta assopendo ma in realtà è ancora attivo e quindi bisogna continuare a combatterlo ma il clou della festa si svolgerà domenica prossima all'Anfiteatro Rastat dove ci sarà la testimonianza delle donne che hanno vissuto la guerra donne di vari paesi donne dell'Algeria donne della Palestina dell'Afghanistan della Nigeria dell'Ucraina ovviamente non può mancare sono donne che hanno un'esperienza drammatica all'interno di sé e quindi domenica la esporranno al pubblico che vorrà assistere a questo evento e poi ci sarà gastronomia ci saranno balli danze ci sarà anche il vescovo presente a questa bella festa una festa variopinta perché sotto una tenda ci sono tanti tanti popoli ed ora lasciamo Fano per andare a San Lorenzo in campo dove il sindaco dell'Onti ci annuncia che la Tari a San Lorenzo in campo non aumenterà nella maggioranza dei comuni della nostra provincia invece la tassa sui rifiuti quest'anno sarà più cara quindi San Lorenzo rimane come una eccezione emaneremo un bando con circa 20 mila euro dichiarato il sindaco di dotazione finanziaria per aiutare gli utenti in difficoltà nei pagamenti San Lorenzo Tari stabili aiuti alle famiglie tiriamo ancora la pagina e andiamo ad Urbino dove l'università incentiva l'azione di comunicazione l'università riparte da slogan e manifesti è stata presentata ieri la nuova campagna di comunicazione quest'anno pillole di verità annunci sui giornali e sugli autobus e vediamo qui alcuni flash della campagna di comunicazione con dei manifesti non dipartimenti ma comunità sono degli slogan concettuali non titolo ma crescita non immatricolazioni ma partecipazione non didattica a distanza ma aumentata quella in presenza quindi un impegno che l'università si assume nei confronti dei suoi studenti a tavoleto si incentiva la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative il sindaco uscente pompei sfidato dal partito gay lgbt più il primo cittadino appunto alla rielezione e attirare attività produttive contro di lui si oppone paolo marozzi vogliamo dare un valore aggiunto al paese ha dichiarato e qui vediamo i due contendenti stefano pompei sindaco uscente mireremo a dare più protezione alle fasce più deboli ed anche all'ambiente ha dichiarato il primo cittadino mentre paolo marozzi faremo una rete di volontariato giovanile a favore degli anziani e dei soggetti più fragili insomma una diversità di opinioni ma che in realtà cerca di fare entrambe il bene del paese invece a Fossombrone sembra che Chiara Billi cambi idea sulla piscina sull'acquisto da parte del comune della piscina dalla provincia di Pesaro Urbino in passato quando Chiara Billi era all'opposizione e si era opposto all'acquisto della struttura perché era piena di amianto ora sembra invece che abbia cambiato idea lo evidenzia rifondazione rifondazione contro l'assessore quando era l'opposizione era contrario all'acquisto della provincia ma ora pontini pontini il circolo di rifondazione comunista interviene appunto sull'acquisto di questa struttura l'accusa è forte aver cambiato idea in seguito al cambio di poltrona della minoranza alla maggioranza sulle pagine pesaresi del resto del Carlino vediamo che il giornale insiste sul cambiamento del regolamento per quanto riguarda l'arredo del centro storico decoro urbano in centro l'accordo è fatto no all'asporto senza distinzioni etniche e vediamo che in questo caso sono d'accordo anche le minoranze le quali hanno visto accolte alcune loro istanze alcune loro modifiche apportate in commissione quindi sono tutti d'accordo le regole riguardano solo il cardo e il decumano della città ovvero via branca via rossini via san francesco e il corso di pesaro e limitatamente alle nuove aperture ora serve l'approvazione in consiglio comunale e qui è l'articolo che riguarda invece il gay pride regionale che si svolge a pesaro niente patrocinio al market pride la regione nel mirino sono omofobi hanno dichiarato gli esponenti dell'amministrazione comunale però i motivi del diniego risalgono al fatto che secondo il regolamento che concede il patrocinio della regione a certe manifestazioni sono escluse le iniziative di carattere politico e sembra che questa il gay pride venga così considerata una manifestazione di carattere politico e quindi niente patrocinio comunque ovviamente si svolgerà lo stesso e con con l'esultanza la trasgressione i colori che questa manifestazione di solito esprime e veniamo alla cronaca ladri in 11 garage veramente un ride considerevole compiuto da questa banda di malviventi in diverse zone della città rubata anche una Porsche sparite tre biciclette tra cui una top di gamma da 5.000 euro i colpi sono stati messi a segno in strada dei condotti e nelle vie Guerrini e Petrarca e poi qua vediamo a fondo pagina il convegno del SIULP il sindacato di polizia le baby gang si moltiplicano ha detto il segretario Marco Lanci che è stato rieletto alla guida del sindacato il congresso provinciale ha espresso anche dei numeri che sono preoccupanti da qui al 2025 andranno in pensione 80 agenti e non saranno rimpiazzati e questo è veramente un danno per il nostro territorio che è ancora indenne in linea di massima perché non proprio ma in linea di massima è ancora indenne dall'avvento della grande criminalità e quindi indebolire l'organico delle forze di polizia è un provvedimento che potrebbe suscitare problemi particolarmente gravi minacce su TikTok alla rivale in amore il marito la lascia per una sudamericana lei pubblica il video con insulti contro la donna e scatta la denuncia e le è stata condannata insomma vittima e mazziata in questo caso ma non si può reagire in questo modo e poi il portiere d'albergo che aveva palpeggiato la cameriera è andato agli arresti domiciliari l'uomo a 60 anni non ha risposto alle domande del giudice è rimasto muto e quindi è stato condannato in questo senso e poi il giornale ci parla di investimenti fondiari in Romania ma era una truffa assicurava un affari d'oro con l'acquisto di terreni un pesarese ci rimette 17 mila euro sono due rumeni che si sono proclamati come intermediari d'affari e cercavano di avere soldi per intestare i loro pseudo clienti dei terreni in Romania in realtà questi soldi se li intascavano e compravano beni di lusso per loro stessi ebbene era una truffa e un pesarese ci è cascato vediamo ancora il tutor alle porte questa è una notizia che preoccupa tutta la provincia non solo Pesaro il tutor alle porte della città fa il pieno in un anno multe per un milione di euro ci sono diverse vie della nostra provincia che hanno questo sistema di controllo la Montelabattese ha così dato alle casse del comune 3.930 multe un importo considerevole in strada della Romagna sono 2.325 ma il top si registra nell'Adriatica tra Fano e Pesaro con 4.469 multe nelle 2022 fino ad oggi in totale nel 2021 sono state 13.241 il limite è di 70 km orari e sta costando carissimo a migliaia di automobilisti e poi vedremo quando verranno resi noti i dati quello che accade nel tratto della Statale Adriatica a sud del Ponte Metauro dove è stato installato un autovelox e qui ancora vedremo quante multe saranno state fatte a zigzag in A14 completamente ubriaco inseguito e preso da Cesena a Montemarciano la polizia stradale lo denuncia e gli ritira la patente e vediamo anche il Corriere Adriatico dove abbiamo visto la prima pagina e quindi apriamo quella di Fano dove l'apertura è dedicata all'housing sociale assegnate le 30 innovative abitazioni in quattro palazzine del complesso Giardini del Carmine a Gimarra dotata di tele riscaldamento questo è un progetto che è in atto da decine d'anni si può dire c'è stato tutto il fallimento dell'Apolo Holding il subentro del fondo Cives poi ci sono state pause nella realizzazione delle opere e finalmente qualcosa si vede è qualcosa di sostanziale 30 appartamenti non sono pochi sono anche dei bei appartamenti una pianta si abbatte sul tir il conducente in leso in seguito al fortunale della giornata di ieri paura a ronco sambaccio il vento durante il temporale ha sradicato un albero e per fortuna non ha determinato conseguenze al conducente che era appunto all'interno del tir si tratta di un autotrasportatore 37enne originario della Romania che lavora per una ditta pescarese due giorni con la festa dei popoli cibi etnici danze e storie lontane torna la manifestazione era stata sospesa per il lockdown per il covid ora ritorna una manifestazione che parla soprattutto di inclusione parteciperà anche il vescovo informa il corriere e poi in quest'altro articolo è l'altra conferenza che si è svolta ieri con la presentazione del giovedì della confraternita del suffragio che come abbiamo detto sono dedicati ai cibi e alla salute due aspetti che sono concomitanti e che sono dipendenti l'uno con l'altro per la casa del custode dell'aeroporto vi ricordate la casetta che era stata dipinta dal Grizzly tutta con delle scritte delle decorazioni chiamiamole così che ne avevano così colto l'esterno in maniera determinante ebbene questa casetta dell'aeroporto verrà ristrutturata e l'amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo comunque i tempi anche qui come quelli che si riferiscono al progetto del parco dell'aeroporto si dilungano a dismisura questo parco deve nascere nasce a singhiozzi nasce in maniera parcializzata e sembra che fatichi molto a venire alla luce e così anche la casetta dell'aeroporto per la casa del custode i tempi di realizzazione si raddoppiano e questa è la notizia di oggi la evidenzia Andrea Maduzzi se riprofetizzò manufatto pronto in un anno e mezzo invece dopo due manca ancora il progetto esecutivo appunto è stato approvato ha dato fuoco all'auto dell'ex ci ha riprovato condannato a colli al metauro sono state coinvolte poi anche altre vetture due anni e quattro mesi a un 57enne autore anche di altri atti persecutori apriamo ancora la pagina giriamo ancora la pagina per giungere a Senigallia a Senigallia la cronaca la fa da regina tre scippi denunciati in discoteca il papà di Mattia sono disgustato e bisogna riflettere questa è una notizia che già è stata evidenziata nei giornali ieri però ora ci sono delle riflessioni perché quello che è accaduto all'interno di Corinaldo non ha insegnato nulla a certi ragazzi malviventi ebbene dopo quello che è accaduto ancora si ripete l'atto che ha determinato la morte di sei persone a Corinaldo ebbene questa volta al Mamma Mia dei ragazzi hanno strappato le catenine durante la calca della discoteca a tre vittime loro identificate il papà di Mattia uno dei bambini morti uno dei ragazzi morti a Corinaldo dice sono disgustato e ammareggiato da questi giovani delinquenti a parlare Giuseppe Orlando che alla lanterna ha perso il suo unico figlio Mattia è incredulo di fronte al fatto che nonostante la tragedia costata la vita a sei persone ci siano ancora ragazzi senza scrupolo intenti a strappare le catenine all'interno della discoteca e poi torna l'incubo del terremoto una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata ieri a largo della costa adriatica tra Cupra Marittima e Pedaso evacuati asili nido e scuole dell'infanzia effettuate le verifiche agli edifici nessuno però è inangibile e per fortuna nessun danno alle persone era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 e vi invita a seguire le notizie del giorno su Fano TV alle ore 20.30 di questa sera su Occhio la Notizia grazie per l'ascolto a risentirci